Dovevo fermare quella macchina di criminale che avrebbe sterminato tantissime altre persone, più di quante ne ha uccise. Mi disse, ma non lo capisci che siamo morti? Io in quel momento ho pensato, ma veramente con un sorriso gli ho detto, e dove sta il problema? La mia mente raccontava a povera gente che magari in guerra batteriologica andava a bere un bicchiere d'acqua perché non si poteva permettere l'acqua minerale e morivano bambini, donne, innocenti. Ma no, dove sta il problema? Moriamo noi, piuttosto. Io sono morto. Un giorno un grande magistrato, ero nuovo nel 98, mi disse, signor Cosmeri, la giustizia è una fede e io conservo ancora quella fede. Io durante questi 24 anni, al fine di salvaguardare la mia impolunità e quella della mia famiglia, ho fatto delle indagini personali e le dico, ma come si fa? Cioè, io da solo e tutto lo stato di polizia, miliardi, spettite dai contribuenti, per fare cosa? Un depistaggio, che era palese, palese! Grazie. 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 Grazie.